Comune di Verbicaro e Regione Calabria hanno firmato questa mattina la convenzione a tutela dei 75 senza lavoro del piccolo Borgo Montano a dar notizia al sindaco della cittadina tirrenica Felice Spingola, una firma che getta le basi per la partecipazione degli ex lavoratori ad un bando che prevede la formazione di nuovo personale. Il primo cittadino ci ha spiegato di cosa si tratta. Disoccupati e inoccupati perché per la prima volta sono stati presi anche in considerazione gli inoccupati, cioè quelli che talmente sfiduciati non si andavano manco a scrivere nelle liste di collocamento. Sono 75 persone che faranno un corso di formazione diretto alle politiche attive del lavoro il che significa che bisognerà trovare insieme alla Regione Calabria ma anche al Governo centrale delle prospettive per questi. Io credo che ci siano molte direzioni nelle quali si possa lavorare nell'interesse dei cittadini disoccupati e inoccupati ma anche e soprattutto nella tensione di utilizzarli in maniera produttiva all'interno delle attività che i nostri territori ormai hanno bisogno soprattutto per quanto riguarda la questione del dissesto idrogeologico. Spingola però ha bacchettato i suoi colleghi amministratori. Era un bando di cui potevano approfittare tutti quanti a livello regionale e ne hanno approfittati 20 comuni che hanno presentato le domande nei termini e mi dispiace solo una cosa che pur avendo discusso molto anche con la vostra televisione, sui giornali eccetera, del nostro territorio non ci sia stato sostanzialmente nemmeno un comune ammesso. C'è stato il comune di Mairà che aveva fatto la domanda ma che poi non è stata ammessa. Nessun altro l'ha fatta.